Questa è Zirra, questa è di Mattia Chiavassa, scusate mi metto gli occhiali, non vedo che questa è una premia del 2020 di Mattia Chiavassa, proprietario di Miriam Duy, che è questa, avete la scheda dell'articolo che ho messo ieri sera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.